Vicende giudiziarie e vicende politiche, un intreccio equivoco e allarmante che ricade inesorabilmente sui molisani già allo stremo per effetto di una crisi senza fine che ha distrutto il tessuto economico e produttivo di un'intera regione. Nessuno lo aveva previsto, ma la questione morale è diventata la vera emergenza e le prese di posizioni su un tema così scottante si susseguono, seppur in modo contrastante, tra chi chiede le dimissioni di Paolo Frattura e chi continua a sostenerlo. Sullo sfondo però resta la vicenda Biocom e il caso Scarabeo. In effetti due reazioni contrastanti ma entrambe in qualche modo sgradevoli a mio avviso. Da un lato si assiste a dichiarazioni di militanti o elettori del centrosinistra che quasi hanno festeggiato per questo arresto nei confronti di un assessore del loro stesso partito o della loro stessa coalizione che oltre che deplorevole sul piano umano è poco piacevole sotto quello politico e comunque incomprensibile. Dall'altro chi invece osserva per contro un silenzio che è altrettanto anomalo. Penso al silenzio di Antonio Di Pietro ad esempio che immagino cosa sarebbe successo, che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe detto se questa vicenda avesse riguardato un'aggiunta di un'altra parte politica o dove lui non è diciamo così in modo così presente un grande sostenitore. È un silenzio che però come dire è anomalo e rafforza quello che ormai è chiaro che c'è un rapporto che non si comprende per quale motivo per l'appunto due pesi e due misure. L'altro Di Pietro Cristiano invece sostiene che la regione parte lese della vicenda e quindi frattura deve andare avanti e non deve dimettersi. Ma bisognerebbe chiedere innanzitutto come lo sappia, come abbia fatto a leggere le carte della procura visto che è considerato che le indagini sono ancora in corso e però il problema politico resta sul tappeto che si continua a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri e continuano invece a far finta di ignorare la trave che è negli occhi nello specifico del governatore perché vorrei ricordare che c'è ancora pendente la vicenda Biocom che riguarda il governatore in persona e fermorestando la presunzione di non colpevolezza che vale per scarabèo così come vale per frattura resta il problema politico. In quel caso addirittura le somme che si contestano sono addirittura maggiori e in quel caso cioè nel caso del governatore lui continua ad essere governatore a fronte del fatto che c'è un contenzioso anche giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato oltre che come si apprende dai giornali pendente alla procura della Repubblica. Questo comportamento che per l'appunto si finge di chiudere un occhio per una vicenda e invece si chiude allo scandalo per l'altra secondo me è sintomatico di alcuni rapporti che non funzionano più e questo credo che ormai sia chiaro un po' a tutti. Ormai c'è emergenza anche sulla questione morale? Quello che si sta verificando oggi è quello che avevamo anticipato in campagna elettorale per filo e per segno con la pubblicizzazione della famosa mappa del potere dove era chiarissimo come si sarebbero divisi le poltrone e gli incarichi politici, gli incarichi pubblici e anche i grandi affari privati che si stanno facendo. Quindi la questione morale c'è non da oggi ma c'è già da allora. Oggi assume delle tinte patologiche, ancor più patologiche perché stanno emergendo dei fatti che oggettivamente illustrano quello che non è più un caso isolato ma è un vero e proprio sistema che fa capo al presidente Frattura e rispetto al quale io credo che sia il minimo che ci sia una reazione sociale di non accettare supinamente e passivamente questo stato di cose come se fosse normale perché a mio avviso e dell'opinione credo che comincia ad essere maggioritaria non è affatto normale quello che sta accadendo.